buongiorno e benvenuti in questo nuovo video benvenuti in questo nuovo video spesa in questo nuovo svuota la spesa settimanale per 9 persone ci sono anche le mosche e questa volta siamo andati da al galassia lidl e eurospin adesso giro vi faccio subito vedere quello che abbiamo acquistato allora iniziamo dal galassia dove abbiamo preso due confezioni di fichi d'india a 99 centesimi luna non me li sto ricordando ma li sto leggendo dallo scontrino poi abbiamo preso quest'uva bianca e rossa senza semi confezione da 500 grammi in offerta a 1 euro e 75 perché prezzo pieno era 2 25 meno 50 centesimi di sconto che faceva proprio il supermercato 1 euro e 75 poi abbiamo preso queste mele che sono le stesse che ha preso la mamma che ha fatto vedere nella live e l'abbiamo pagate 1 euro e 65 sì 1 euro e 65 la confezione da un chilo se non sbaglio un chilo e mezzo poi carne trita 794 grammi 5 euro e 55 salsiccia luganega questa qui invece è 6 eti e l'abbiamo pagata 4 euro e 99 e poi le patatine che l'abbiamo usate come aperitivo praticamente a 89 centesimi e in tutto al galassia abbiamo speso 19 euro e 16 centesimi siamo poi andate al lidl e qui invece ci abbiamo preso un pochettino più di roba abbiamo preso la pasta sfoglia rotonda che c'era 3 più 1 e l'abbiamo pagata c'era il 3 più 1 quindi in pratica l'abbiamo pagata 4 euro e 36 meno 1 euro e 09 perché appunto una era in offerta regalata poi abbiamo preso grana padano questo qui dop che l'abbiamo pagato 2 euro e 89 non ricordo perché prego sempre quello nuggets di tacchino e pollo e l'abbiamo presi perché erano in offerta 1 euro e 11 per 430 grammi ne abbiamo preso 3 confezioni poi bracciole di suino questa confezione da 2 a 2 euro e 02 confezione da 350 grammi che era appunto scontata e poi queste invece da 700 grammi che erano in offerta con il coupon e costavano 4 euro e 89 meno 1 euro e 4 centesimi l'una quindi 3 euro e 85 più o meno e quindi ne ho preso 2 confezioni perché sono da 4 mi sembrano e quindi per quello abbiamo preso anche questa da 2 poi yogurt bianco magro stava 85 centesimi ma c'erano in offerta con il coupon plus l'idl plus l'abbiamo pagato 75 cuori di carciofo che era 1 euro e 99 ma c'era lo sconto sempre con l'idl plus di 30 centesimi su ogni confezione quindi 1 euro e 69 poi abbiamo preso 3 confezioni di pane arabo cioè abbiamo fatto noi il sacchetto perché c'era anche qui l'offerta 3 più 1 e quindi ne ho approfittato e infatti ci ha scontato 1 euro e 0,5 su il totale che era 4 euro e 20 poi i cookies i cookies stavano a 1 euro e 49 meno 20 centesimi di coupon l'idl plus li abbiamo pagati 1 euro e 29 poi i funghi porcini secchi questi qui stavano 1 euro e 79 l'uno meno 25 centesimi e quindi li abbiamo pagati 1 euro e 54 la confezione così volevo fare il risotto con i funghi poi la marmellata la confettura di fragole 1 euro e 55 qua non c'era nessuno sconto l'ho presa perché è la preferita di max ce la chiede sempre e allora gliela abbiamo presa una confezione di vongole al naturale perché ce l'avevo avevo il coupon per prenderle gratis e quindi ci farò poi un sugo patatine classiche che ha voluto prendere la mamma così da stuzzicare quando se ne voglia biscotti tipo gocciole questi qua stavano a 2,39 meno 60 centesimi di coupon l'idl plus più o meno siamo a 1 euro e 70 1 euro e 60 dai più o meno 1 euro e 61 così allora l'ho preso perché comunque è un bel pacchettone da 700 grammi quindi l'abbiamo preso poi qui hamburger di tacchino ne ho prese 3 confezioni sono da 4 e ogni confezione l'abbiamo pagata 2 euro e 23 centesimi poi una confezione un pacchetto di ceci che avevo invece il coupon Cancella e Vinci e invece di 1 euro e 09 l'abbiamo col Cancella e Vinci di 56 centesimi e l'abbiamo pagata circa 53 poi caffè che invece questo non aveva nessun coupon 1 euro e 15 centesimi questo qui della Gimoca crostatine all'albicocca che stavano 1 euro e 39 ma col coupon Lid Plus di 20 centesimi l'abbiamo pagata 1 euro e 19 abbiamo ripreso per Manuel le gallette che abbiamo pagato 1 euro e 29 al pezzo e ho ben preso cioccolato al latte cioccolato al latte e cocco e cioccolato fondente poi avevo sempre un coupon per l'infuso zenzero e praticamente questo qui costa 99 centesimi col coupon Cancella e Vinci di 50 centesimi l'abbiamo pagato 49 centesimi mele Sweet Tango che mi aspettavo un sacchetto invece è fatto così 2 euro e 29 prezzo diciamo pieno meno 60 centesimi di coupon Lid Plus più o meno 1 euro e 70 e poi questi triangolini di mais che fa vedere anche sempre chiaretta con quinoa e appunto di mais questi qua costano 89 centesimi e col coupon Lid Plus hanno levato 20 centesimi a ognuno e quindi alla fine li abbiamo pagati 69 centesimi ciascuno e questo è tutto quello che abbiamo preso al Lidl dove abbiamo speso 56 euro e 97 centesimi con un risparmio di 14 euro e 96 centesimi che è il valore degli sconti per finire siamo andate all'Eurospin che sapete è il mio supermercato per eccellenza io lo adoro mi piacciono i prezzi mi piace la roba e quindi diciamo che ci andiamo sempre allora iniziamo da queste passate di pomodoro 2 per 350 grammi queste qui non le abbiamo pagate perché è l'omaggio il primo omaggio del mese di ottobre e quindi le abbiamo prese e poi le useremo sicuramente poi cracker dolci con mela e cannella le ho prese ai ragazzi perché gli piacciono e le abbiamo pagate 1 euro e 59 anche qui c'erano tantissimi prodotti ribassati però purtroppo sullo scontrino dell'Eurospin come potete vedere non viene segnato quindi qualcuno me lo ricordo qualche d'uno no quindi ecco questa cosa qui non ve la so dire però comunque i cracker dolci non facevano parte dei prodotti ribassati questo me lo ricordo sicuramente poi 3 confezioni di uova a 1 euro e 99 l'uno crocchette per olivia 3 euro e 49 poi 2 confezioni di spinaci a cubetti che costavano 1 euro e 19 l'uno cotto a dadini 1 euro e 85 l'uno multi pack wafer alla nocciola questo qui faceva parte dei prodotti ribassati e le abbiamo pagati 1 euro e 15 centesimi e le ho presi perché sono 5 confezioni almeno le hanno da portare a scuola la pasta per minestra di italini e rigati e conchigliette a 0,65 l'uno questi qua non facevano parte dei prodotti ribassati mentre invece la pasta da 1 chilo si sta a 0,99 e ho preso spaghetti e fusilli poi salva slip questi qua distesi e le ho pagati 1 euro e 29 poi gli assorbenti giorno e assorbenti notte gli assorbenti giorno 1 euro e 25 centesimi mentre invece gli altri quelli lì notte 1 euro e 55 poi la panna da cucina 79 centesimi l'una me lo ricordo perché mi ha scioccato il prezzo della panna il latte fa parte dei prodotti ribassati ed è a 0,89 parzialmente scremato ne abbiamo prese solamente 4 perché di là ne abbiamo ancora e comunque questa cosa dei prodotti ribassati dura ancora per un po' quindi diciamo che c'è tempo eventualmente poi per farne scorta intanto ne ho prese 4 per aggiungerle alle altre passata di pomodoro a 0,99 ne abbiamo prese 2 poi grana padano dop 2,79 questo qui è un prodotto ribassato e ne abbiamo presi 2 pesto questo qui alla genovese che è senza glutine 1,99 i broccoli erano in offerta a 1,29 euro l'uno e ne abbiamo presi 4 una volta sicuramente per fare pasta e broccoli e invece una volta per farla come contorno poi pandolciando fanno parte dei prodotti ribassati e li abbiamo pagati 1,59 euro poi abbiamo preso un cavolfiore che non so sinceramente quanto abbiamo pagato 2,28 euro poi pagliette in acciaio ce ne sono dentro 4 e le abbiamo pagate 89 centesimi poi c'erano i panini al latte anche questi fanno parte dei prodotti ribassati e li abbiamo pagati 1,89 euro poi fazzoletti che non erano ribassati ma ci servono perché comunque siamo tanti inizia la stagione dei raffreddori quindi meglio averne un po' scorta e le ho pagate 2,89 euro crostatine al cioccolato anche queste facevano parte dei prodotti ribassati e le abbiamo pagate 1,29 euro poi pesto al basilico normale diciamo 1,29 euro l'uno e poi abbiamo preso l'acqua demineralizzata per il ferro perché comunque è nuovo e ci tengo parecchio e 1,09 euro anche qui costava molto meno quindi questo è tutto quello che abbiamo preso all'Eurospin qui abbiamo pagato 60 euro e 80 centesimi in tutto abbiamo speso 136 euro tra tutto Galassia, Lidl e Eurospin ed è la spesa che ci basterà insieme alle cose che abbiamo ancora anche in casa per tutta questa settimana fino ad arrivare al prossimo stipendio quindi abbiamo usato un sacco di sconti al Lidl un sacco di prodotti ribassati all'Eurospin e a Galassia abbiamo trovato appunto questa frutta un pochettino più scontata fatemi sapere se voi state usando le varie applicazioni per risparmiare un po' se magari fate qualche supermercato diverso come ho fatto io in questo caso oppure se vi concentrate in un solo supermercato vi anticipo già che dalla prossima settimana la spesa sarà fatta in un modo diverso ma vi spiegherò tutto poi in quel video lì per adesso è tutto io spero che vi sia piaciuto vi ringrazio per aver guardato fino a qua vi mando un bacione grande e noi ci vediamo domani con un nuovo video ciao 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 ciao